Adotta un orto in Africa, che cos'è? Un'altra esperienza Slow Food? Adotta un orto in Africa è un'iniziativa che serve per sostenere il progetto che negli ultimi due anni ha portato la rete di Slow Food a realizzare mille orti in giro per tutta l'Africa, dal Marocco al Sudafrica in diverse decine di paesi e che da adesso è stato rilanciato, per cui è cambiato e diventato 10.000 orti in Africa. Abbiamo deciso con l'ultimo congresso internazionale di rilanciare il progetto perché quello che stiamo facendo in Africa per noi è costruire la rete. Gli orti sono il motivo e sono i singoli snodi della rete e attorno a questo stiamo costruendo tutto quello che sono i nostri attivisti, tutto quello che sono le nostre progettualità a partire da quelle sulla biodiversità perché tutelare un orto significa tutelare una comunità, una scuola, un ospedale a seconda del posto in cui lo si è realizzato e questo fa sì che una comunità sia attivi anche per tutelare le varietà locali in modo coerente e soprattutto rispettoso con quello che è il contesto agricolo ed economico del loro contesto. Tecnicamente come si fa allora ad adottare un orto in Africa? Gli spettatori, quelli che stanno arrivando qui al Senato del Gusto a Terramadro 2014, come fanno? Gli spettatori, poi i visitatori del nostro salone vengono e possono decidere di sostenere i tanti progetti di Slow Food. Questo è uno tra quelli e si richiede un sostegno economico, è un sostegno importante, ogni orto ha dei costi ovviamente molto alti perché significa impostare una progettualità di anni alti, un orto non lo fai per un anno e poi è finito ma lo continui. Quindi è a tutti gli effetti un sostegno economico, quello che stiamo chiedendo. Attorno a questo ci sono moltissimi altri progetti come quello dell'Arca del Gusto, dove invece si richiede di partecipare attivandosi prima ancora che non attraverso un contributo economico. Per sostenere gli orti lo si può fare solo venendo qui all'Arca del Gusto o anche magari tramite nuove tecnologie, tramite il sito internet di Slow Food? Per sostenere gli orti c'è una piattaforma online a cui si può accedere facilmente con i riferimenti della fondazione che è fondazioneslowfood.org e lì si possono trovare tutte le informazioni sull'andamento dei progetti, sulla progressione da 1000 a 10.000 e soprattutto attraverso il sito si può trovare il modo di sostenere questo progetto che sta riscuotendo un grande successo inatteso da parte nostra in tutto il mondo, per cui le stesse comunità si stanno attivando nel loro paese per fare fundraising ma anche Slow Food è un movimento, per cui anche la nostra rete negli States, in Sud America, in Europa e soprattutto in Oceania stanno lavorando moltissimo per raccogliere questi fondi.